Tre assessori per una risposta, culturale, sociale, educativa. Allarmata dall'episodio di tremenda violenza avvenuto alcuni giorni fa, quando un ragazzo in pieno centro ha sferrato una bottigliata alla gola di un quattordicenne, la città di Buster Sizio unisce le forze di tre esponenti di giunta, tre competenze alleate per un fine comune, combattere il disagio giovanile. È un po' una chiamata alle armi, alle armi pacifiche, all'arma pacifica della cultura, quella che insieme ai miei colleghi all'inclusione sociale e all'educazione abbiamo deciso di mettere in atto. Una risposta puntuale e concreta da parte dell'amministrazione a questo fenomeno che sta un po' imperversando in alcune sere della settimana nelle nostre piazze e che vede protagonisti i nostri giovani, ai quali cerchiamo di dare un'ulteriore risposta, che sia appunto anche una risposta di contenuto, una risposta in senso preventivo, andando a individuare magari anche fasce della popolazione un po' più giovani, ma anche una risposta attuale. Gli assessori mafioli, Attolini e Farioli chiamano così a raccolta educatori e associazioni affinché l'azione sia organica, radicata e pervasiva. Evidentemente non siamo noi a intervenire direttamente, ma faremo leva sulle associazioni, anche sul volontariato, su tutti quelli che in qualche modo hanno a che fare col mondo giovanile, in modo che possano segnalarci situazioni di disagio e noi possiamo sostenerli come possiamo con le nostre attività, con i nostri fondi, in modo che si creino dei percorsi di aiuto e di facilitazione per i ragazzi, in modo da poterli recuperare ed evitare che finiscano in cattive compagnie o in situazioni molto particolari. Sbagliato, secondo Farioli, vedere i fatti più gravi come casi isolati e non replicabili. Il disagio è percepibile, un mix micidiale di smarrimento, calo di valori, scarsi controlli. Il Comune non può sostituirsi a famiglia o scuola. Il nostro compito, dice, è mettere allo stesso tavolo tutti coloro che a diverso titolo possono fare la differenza. Per percepire il bisogno prima ancora che emerga, per valutare e sentire la necessità prima ancora che si manifesti e per intervenire in maniera tale da rendere i giovani, soprattutto delle primarie e delle secondarie di primo grado, protagonisti di una crescita libera, consapevole ed educata.